Smarrimenti sembra un po' descrivere il momento che stiamo vivendo Allora Smarrimento è il titolo dello spettacolo che spesso viene chiamato Smarrimenti perché evidentemente ce ne sono vari di Smarrimenti in questo momento ha debuttato prima del periodo che poi abbiamo vissuto però stranamente lo ha abbracciato come significato nel senso che il titolo e anche il racconto che viene fatto è una specie di cabaret esistenziale quindi di domande sulla nostra situazione su come bisogna continuare, su quali sono i nuovi inizi effettivamente è abbastanza intonato con il periodo che stiamo attraversando Senta, è la storia di una fantomatica scrittrice? Sì, la storia, il pretesto narrativo è quello di una conferenza di presentazione dei vecchi libri di una scrittrice in crisi che non riesce a terminare il romanzo che ha iniziato a scrivere gli editori hanno organizzato queste conferenze per poter presentare i suoi vecchi romanzi in modo tale da sfangare il periodo visto che lei non riesce a finire questo romanzo e quindi a pubblicare questo però è solo un pretesto narrativo in realtà poi la storia che si sviluppa nello spettacolo a partire da questa scrittrice in crisi è il racconto dei suoi due personaggi del romanzo che sono Anna e Paolo, una coppia che vive lontana, Anna è andata a lavorare fuori e Paolo è rimasto in casa con i due figli, la figlia piccola Fiore e il figlio adolescente Sebastiano quindi è un racconto che tocca tanti temi, dai più semplici della quotidianità, dai più concreti a domande più grandi, esistenziali appunto come ci si deve comportare di fronte a uno smarrimento, a una crisi dove bisogna trovare il coraggio di andare avanti in realtà lo spettacolo è abbastanza anche il racconto del miracolo della vita che propone sempre dei nuovi inizi, delle cose miracolose che incontriamo quindi sebbene il titolo Smarrimento possa far pensare solo a una crisi e a una difficoltà in realtà il racconto che si sviluppa dal testo di Lucia Calamaro è un racconto invece che vuole elogiare i nuovi inizi come quello che speriamo di vivere adesso